arriva la prima col petonale 454 451 la seconda 452 la terza un applauso bravissime la quarta che petonale aveva che eravate tutti assieme quarta e quinta non l'ho visti vabbè vi ho detto le prime tre a seguito le altre abbiamo ancora qualcuno in gara bravissime bravissime anche voi le ultime due bravissime